Capitolo 19 Da notare che in questi ultimi vent'anni durante i quali il collegio ha avuto così cattiva fama, tre dei maggiori successi del cinema e della letteratura popolari presso i giovani sono stati L'Attimo Fuggente, Harry Potter e Le Coriste, tutti e tre ambientati in un collegio. Tre collegi molto all'antica oltretutto, divise, rituali e punizioni corporali presso gli anglosassoni, grembiuli grigi, edifici mesti, insegnanti polverosi e scapaccioni nelle coriste. Sarebbe interessante analizzare il successo trionfale che ottenne tra i giovani spettatori del 1989 l'Attimo Fuggente, quasi unanimemente denigrato dalla nostra critica e dalle nostre aule professori. Demagogico, furbo, arcaico, prevedibile, sentimentale, cinematograficamente e intellettualmente povero, tutti argomenti senz'altro inoppugnabili. Rimane il fatto che orde di liceali si precipitarono a vederlo e uscirono estaziati. Presumere che fossero incantati solo dai difetti del film significa farsi una ben misera opinione di un'intera generazione. Gli anacronismi del professor Keating, per esempio, non erano sfuggiti ai miei studenti, né la sua malafede. Keating non è del tutto onesto professore con il suo carpe diem, ne parla come se fossimo ancora nel Cinquecento, ma nel Cinquecento si moriva molto più giovani di oggi. E poi l'inizio è bruttissimo quando lui fa strappare il libro di scuola. Uno che dice di essere così aperto, allora già che c'è, perché non si mette a bruciare libri che non gli piacciono? Io mi sarei rifiutato. Tolto questo, ai miei studenti il film era piaciuto un sacco. Tutti e tutte si identificavano con quei giovani americani della fine degli anni cinquanta che, dal punto di vista sociale e culturale, erano simili a loro quanto possono esserlo i marziani. Tutti e tutte adoravano l'attore Robin Williams, di cui gli adulti pensavano che gigioneggiasse un po' troppo. Il suo professor Keating incarnava ai loro occhi il calore umano e l'amore per il suo lavoro, passione per la materia insegnata, dedizione assoluta ai suoi allievi, il tutto accompagnato da un infaticabile dinamismo degno di un coach. La campana di vetro del collegio accentuava l'intensità delle sue lezioni, conferiva loro una sorta di intimità drammatica che inalzava ai nostri giovani spettatori alla dignità di studenti a pieno titolo. Ai loro occhi le lezioni di Keating erano un rito di passaggio che riguardava solo ed esclusivamente loro, cosa che uno dei mie studenti espresse senza mezzi termini. Vabbè, ai prof non piace, ma è il nostro film, non il vostro. Esattamente quello che doveva aver pensato la maggior parte dei professori in questione, venti anni prima, quando liceali anch'essi avevano esultato al film palmadoro del Festival di Cannes 1969 intitolato If, un'altra storia di collegio in cui i più brillanti allievi di un college più inglese che mai prendevano d'assalto la scuola e, appostati sui tetti, sparavano con il mitra e il mortaio contro i genitori, il vescovo e i professori riuniti per la consegna dei premi di fine anno. Spettatori adulti scandalizzati, come eduopo, universitari liceali esultanti, prevedibilmente. È il nostro film, non il loro. A quanto pareva i tempi erano cambiati. Allora mi sono detto che uno studio comparato di tutti i film sulla scuola la direbbe lunga sulle società che le avevano visti nascere, dallo zero in condotta di Jean Vigo al famoso attimo fuggente, passando per gli scomparsi di Sena Gill di Christian Jacques del 1939, la gabbia degli signori di Jean Reville, 1944, modello dell'ecorist, il seme della violenza di Richard Brooks dei Stati Uniti, 1955, i 400 colpi di François Truffaut, 1959, primo maestro di Mikalkov-Konkalkovsky, Urdellors, 1965, la prima notte di Quete di Zurlini, Italia 1972, cui si può aggiungere dopo il 1990, la scuola di Daniele Lucchetti, Italia 1995, la bagna dell'iraniana Samira Makalma Baff 2000, la schivata di Abdelatif Kekik 2002 e alcune altre decine. Il mio progetto di studio comparato non è andato oltre lo stadio dell'intenzione. Lo realizzi chi vuole, se non è già stato fatto. Rimane comunque un buon pretesto per una retrospettiva. La maggior parte di questi film ha riscosso un enorme successo di pubblico e se ne potrebbero trarre numerosi insegnamenti interessanti, tra cui questo. Dall'epoca di Rabelais, ogni generazione di Gargantua prova un giovanile orrore nei confronti degli Olofern e un grande bisogno di Ponocrate. In altri termini, il desiderio sempre è rinnovato di formarsi in opposizione al clima dell'epoca, allo spirito del luogo e il desiderio di sbocciare all'ombra, o meglio nella luce, di un maestro reputato esemplare.